In un convegno che si è tenuto all'Università La Sapienza di Roma sui cambiamenti geopolitici nell'area post-sovietica, ambasciatori di Russia e Ucraina hanno ribadito che la distanza attuale tra i due paesi nasce soprattutto dal no all'accordo di cooperazione economica con l'Unione Europea. Su questo sentiamo Franco Frattini, ex ministro degli esteri e presidente della società italiana per l'organizzazione internazionale. Io penso che l'Unione Europea abbia fatto bene a lasciare le porte aperte all'Ucraina malgrado questo paese non abbia ritenuto di firmare un importante accordo di associazione e di cooperazione economica. Io mi auguro che le violenze di questi giorni a Kiev vengano sostanzialmente mitigate e poi eliminate senza repressioni poliziesche che sarebbero inaccettabili. Il popolo chiede che l'Ucraina si avvicini all'Europa. Credo che sia interesse dell'Europa e di Kiev ma è una decisione sovrana di quel paese. Noi europei non possiamo imporre assolutamente nulla a quel paese. Credo che però le porte siano ancora aperte.